Allora ragazzi, prima che inizi il video mi devo scusare con voi se questo video, come al solito, ve lo faccio in ritardo, ma sono stato impegnato, sono sempre impegnato, non ho avuto un momento libero per appunto creare questo contenuto. Benvenuti in questo nuovo video, ragazzi, oggi andiamo a parlare di una cosa che veramente non è che mi ha sconvolto, non è che mi ha emozionato, perché queste poi sono soddisfazioni che si vengono a creare, che si creano. Quando arrivano delle notizie così belle. Qualcosa che mi ha colpito per un momento, ho detto no, ma non è vero, questa è una fake news. E invece no, Vladimiro Falcone, Federico Baschirotto, Lorenzo Colombo e Antonino Gallo sono stati convocati per uno stage di due giorni dal CT della Nazionale Italiana Maggiore, Roberto Mancini. Allora, allora, è stato diciamo un fulmine a ciel sereno perché, vi spiego subito, a parte che non c'erano impegni nazionali, quindi nessuno poteva pensare a questa notizia. Ed è per questo che dico che è stato un fulmine a ciel sereno perché è stata una notizia talmente inaspettata che, appunto, ha un po' lasciato perplessi tutti. E in primis sono rimasto perplesso io, che un attimo ho detto, ma veramente, o stiamo scherzando? Stiamo scherzando, magari sarà la bufala, la solita bufala che arriva, no? In un momento, diciamo, di pausa. E invece no, ragazzi, l'ha annunciato il Lecce con una nota ufficiale. Sono i primi quattro giocatori nella storia del club che sono stati convocati in Nazionale Maggiore. Gli ultimi due giocatori erano stati nel 2005. E sono quattro giocatori, ragazzi, interessanti, che in questo campionato soprattutto stanno facendo bene, che stanno dimostrando di poter stare in Serie A, di potersi giocare le proprie carte e soprattutto stanno dimostrando che in futuro potranno ambire a qualcosa di più grande, ambire in club più grandi del Lecce, non per dire che il Lecce non sia un club, diciamo, grande e importante. Il Lecce è sempre nel cuore. Però in grandi club non solo in Italia, anche all'estero ci sono già delle sirene di mercato per quanto riguarda il Big, ma il Lecce lo ha più volte ribadito attraverso delle dichiarazioni dei suoi dirigenti, il presidente l'ha dichiarato, direttore sportivo, direttore generale dell'area tecnica. Diciamo che è un concetto che a tutti ora è chiaro. Il Lecce, per restare in Serie A, al momento non vuole privarsene dei suoi gioielli. Detto questo, ragazzi, sono comunque dei giocatori che hanno tanta carriera davanti, hanno veramente un potenziale incredibile e niente, sono sicuro, sicurissimo, sicurissimo ragazzi, che il valore di mercato di questi giocatori andrà mano a mano sempre più ad alzarsi, soprattutto di Baschirotto che credo sia quello insieme a Falcone che per il momento stia rendendo di più in Serie A, non per togliere niente a Colombo che comunque ha fatto bene, sta crescendo. Baschirotto e Falcone però diciamo che sin dall'inizio sono stati dei giocatori continui. Colombo si è ritrovato nelle ultime partite, ha fatto delle bellissime prestazioni, così come Antonino Gallo che non era mai stato in Serie A, ma diciamo ha trovato quel feeling con la squadra e soprattutto ha trovato la quadra perfetta sulla sua fascia. Il discorso, ragazzi, è simile per gli altri giocatori perché Falcone l'altro anno ha giocato qualche partita con la Sampdoria, titolare perché ha avuto ero se ne ha fatto male e ha ben risposto. Baschirotto alla prima esperienza in Serie A, veramente penso l'abbia lasciato a bocca aperta a chiunque, quindi pure questo è un dato di fatto, mentre Colombo anche, un giocatore alla prima esperienza in Serie A che nelle prime giornate ha faticato, però mano a mano con la fiducia che gli sta dando Baroni si sta sbloccando e sta facendo vedere che è veramente un giocatore da un ottimo potenziale, un giocatore appunto che proviene dal settore giovanile del Milan, se ne sta parlando tanto di calcio mercato, ragazzi, quando arriva questo periodo poi arrivano certe notizie che un po' ti lasciano così un po' sconvolto perché dicono, eh Colombo rientra il Milan, il Milan sta pensando di far lo stesso percorso che ha fatto Bob Bega e quindi il Torino che aveva diritto di riscatto e contro riscatto, il Milan era contro riscattato comunque tornando dal prestito e ora sta giocando. Secondo me, io ve lo dico ragazzi, secondo me Colombo e Gallo faranno la stessa carriera di Tonali, quindi ora stando in un piccolo club, fra qualche anno arriverà un club, fra qualche anno, nei prossimi mesi arriverà un club che gli sgancerà 20 milioni, 15 milioni, se lo prenderà ovviamente se lo giudicherà e lo farà giocare, magari un anno, una stagione te la farà storta, poi le prossime andrà sempre più a crescere, il suo valore di mercato poi crescerà e quindi poi entrerà nel giro della nazionale, quindi sarà titolare, ce lo auguriamo. Stesso discorso per Falcone e Baschirotto, Falcone e Baschirotto ancora ancora ragazzi, Falcone ha 25-26 anni e Baschirotto ce n'ha 26, sono nel pieno della carriera quindi potrebbero veramente far bene, mentre Colombo e Gallo sono ancora giovanissimi. Io sono sorpreso da come appunto Roberto Mancini non abbia chiamato Gabriel Strefezza, che è un altro ragazzo che merita. Sicuramente ragazzi ora non bisogna esaltarsi e dire, oh Dio abbiamo quattro giocatori in nazionale, abbiamo sicuramente quattro giocatori ottimi che potrebbero giocare benissimamente in nazionale, questo sicuro, non lo mette in discussione nessuno, però è uno stage, non è una vera e propria convocazione, sicuramente è una cosa che fa un enorme piacere, siano i tifosi e soprattutto i giocatori che vivranno l'esperienza in prima persona e poi per il club, perché ripeto è la prima volta che vanno quattro giocatori consecutivi in nazionale, ripeto per uno stage, però diciamo che quando arrivi a situazioni del genere, quando fai dei numeri del genere, vuol dire che qualcosa comunque l'hai creato, qualcosa si sta creando ed è una bella cosa quella che ha creato il Lecce come società, Pantaleo Corvino insieme a Stefano Trinchiera per quanto riguarda il mercato. Ragazzi io vi ringrazio per aver visto questo video, scusatemi se mi sono dilungato un po' troppo, vi aspetto nei prossimi giorni perché usciranno tantissimi altri contenuti ragazzi, mercato, podcast, recap, un po' tutto ragazzi, quindi mi raccomando restate aggiornati, vi invito ad iscrivervi al canale qualora non l'aveste già fatto, mi dovete scusare se in questi diciamo 20 giorni sono stato un po' assente, sono stato incasinatissimo, con impegni vari scolastici ed extra scolastici, ci vediamo prossimo giorno con un prossimo video, ciao ragazzi!